Uno esce dal lavoro, torna a casa e deve stare in macchina perché non trova dove parcheggiare. Specialmente la domenica quando fanno i tornei non si può uscire di casa perché altrimenti non si ritrova al posto. Questo è il disagio vissuto e segnalato dai residenti di Querata che vivono nei pressi del campo sportivo. Si cerca di uscire il meno possibile però è una libertà che non la puoi togliere. Se uno ha una necessità, arriva un'ambulanza, qualsiasi cosa, non c'è possibilità di uscire di casa. Oltre alla carenza di posti auto poi c'è anche la sosta selvaggia attorno all'impianto gestito dalla storica società calcistica del paese. Le macchine sono tutte individuate di sosta perché lì ci sono circa una trentina di posti regolari che sono stati fatti con la costruzione delle case. Una soluzione secondo i residenti però ci sarebbe. Per i tornei potrebbero utilizzare il parcheggio delle scuole, sono 200 metri da fare a piedi ma credo che non ammazzi nessuno. In alternativa hanno all'interno del proprio campo sportivo dei campi di allenamento che possono tranquillamente ridurre. C'è già una rampa che li porta nel posto. I residenti hanno così portato avanti una petizione già inviata alla polizia municipale e al comune di Arezzo rivolgendosi all'assessore Federico Scapecchi. Non abbiamo da discutere di niente, cioè lui deve obbligatoriamente creare dei posti auto per lo stadio. In alternativa fermare ogni tipo di attività. La vicenda approderà nel prossimo consiglio comunale con un'interrogazione di Francesco Romizzi, consigliere di Arezzo 2020, che chiederà di interrompere il bando e risolvere la complicata questione prima che avvenga la giudicazione. La scadenza dei termini è prevista per il 21 novembre. Noi si chiede che questo bando venga assolutamente fermato e di conseguenza fermate tutte le attività sportive che in questo momento stanno facendo, ma non perché noi non vogliamo un'attività sportiva, è la loro organizzazione che mette in difficoltà chi vive lì. Prima si trovi un parcheggio e poi si pensa a campo. E poi si pensa a tutto il resto perché credo che sia una logica sana.